buongiorno a tutti buongiorno grazie a essere qua allora qui sono gli open day che riguardano le lauree specialistiche diciamo che abbiamo in animo cioè che abbiamo in animo che abbiamo in programma nel nostro ateneo e con ca foscari non so se qualcuno di voi di ambientale qua o di chimica di qua dico quindi in utile che vi dico questo è il campus scientifico fatto di sette eccetera eccetera per chi non è per chi non arriva a ca foscari vi dico questo è praticamente la parte scientifica dell'ateneo di ca foscari che prima era a venezia e era partita negli anni 70 con praticamente con la mont edison quindi con la chimica industriale ovviamente c'è stata un'evoluzione siamo arrivati prima le scienze ambientali qua negli ultimi anni ci stiamo muovendo nel campo delle cose un po più legate agli aspetti di processo di ingegneria la laurea che vedete qui è una magistrale che è proprio centrata su sta cosa qua biotecnologie per l'ambiente sviluppo sostenibile allora prima di tutto immagino sappiate di cosa parliamo se siete qui le biotecnologie ormai sono qualcosa che di cui si sente parlare giorno dopo giorno e sono strettamente legate a quello che è l'ambito siamo perfino inventati un ministero che è quello della transizione ecologica no immaginatevi che noi attualmente abbiamo una grossa scommessa voi avete perché noi ormai possiamo solo mettere le basi ma poi dovete andare avanti voi abbiamo una grossa scommessa cioè quella di cambiare le filiere produttive sia per la parte che sta a monta cioè per la produzione delle proprie di beni di consumo fino a dopo quelle che stanno a valle cioè quelle che trattano i flussi che provengono dalle filiere produttive in modo tale da portarli a un livello di circolarità più esteso possibile quindi minimizzando quello che esce dal ciclo complessivo di produzione e parallelo ma è praticamente un diciamo un implementazione logica di tecnologie e facilities che sono legate a queste cose abbattere in maniera drastica l'impatto ambientale quindi le biotecnologie industriali si occupano da una parte di processi processi produttivi dall'altra dei processi che stanno a valle cioè quelli che trattano quello che risulta diciamo dei processi produttivi quindi che cosa ci siamo inventati in realtà è una brutta cosa ci siamo messi sul mercato perché perché avevamo le competenze di ricerca che da decenni operano all'interno di caffoscari proprio su queste tematiche qua paradossalmente siamo nati ripeto tra chimica industriale e scienze ambientali e quindi abbiamo sviluppato delle filiere di ricerca che sono proprio quelle che attualmente per fortuna nostra e magari anche vostra richiede anche il mondo del lavoro eccetera cioè quella di formare delle persone che siano in grado di colloquiare a diversi livelli con enti di controllo da una parte società ingegneria dall'altra eccetera eccetera in ambito nazionale è inutile che vi dica voi prendete internet andate a vedere quali sono le situazioni riguardo a questi profili professionali e vi trovate situazioni di sto tipo qua qui abbiamo alcuni gli atenei di riferimento il Politecnico di Torino Bologna il Politecnico di Milano Padova Ferrara eccetera quelle sono le percentuali di occupazione è chiaro che un laureato che esce da un percorso di sto tipo qua ha ottime possibilità di quello che c'è sul lavoro proprio perché è una formazione interdisciplinare e tra l'altro molto concreta molto applicata no? quando ci siamo mossi su sta faccenda ci siamo cominciati a confrontare con quelli che erano le associazioni di categoria e gli enti diciamo che giocano un ruolo centrale su tutta sta faccenda e dei documenti che questi enti hanno prodotto recentemente per fare l'inquadramento generale dello stato di fatto no? L'obiettivo quindi risultante di questa fase di studio preliminare che avevamo fatto era quello di sviluppare una figura professionale che abbia appunto una competenza sicuramente interdisciplinare ma necessaria e sufficiente all'utilizzo di quelli che sono diciamo attualmente quelle che sono le migliori tecnologie disponibili legate a passare da una situazione più legata alle risorse non rinnovabili per le energie potremmo parlare di fossili alle risorse viceversa del tutto rinnovabili e riciclabili quindi poche parole per l'ennesima volta qui l'idea è di portarvi a una professionalità tale da poter chiudere praticamente il cerchio passare quindi da un'economia lineare una circolare questo passa attraverso dei concetti che dovete assimilare che sono quelli logiche conservativi delle risorse sono quelli della riduzione ovviamente dei rischi riduzione dell'impatto ambientale e quant'altro e questo vale sia a monte ripeto per l'ennesima volta che a valle come è fatto il corso il corso ovviamente dura due anni ha un ordinamento standard per legge dal quale non possiamo uscire ed è basato su alcuni pilastri che secondo noi sono centrali i tre pilastri centrali su cui ragioniamo sono quelli da una parte conoscenze in ambito chimico che sono già di passette adversari poi comunque venite da un background dove la chimica gioca un ruolo quelle ingegneristiche che sono quelle che servono per mettere a terra le conoscenze di base che arrivano dall'ambito chimico e poi anche quelle legate a aspetti forse ancora più recenti che sono quelli dell'analisi del ciclo di vita e del rischio che sono ormai complementari integrati per creare le filiere che il mercato vuole ormai nessuno quello dice uno che lavora tutti i giorni anche con le aziende nessuno riesce ad esportare se non ha dei requisiti a monte del prodotto che garantiscano che questo sia fatto in una determinata maniera quindi il compito di chi esce da un corso come questo è principalmente quello di garantire che dentro la filiera complessiva della produzione ripeto ancora per l'ennesima volta a monte a valle ci siano degli elementi premiati che vanno in questo senso cosa c'è dentro? Allora immaginatevi un'altra cosa quando ero giovane io millenni fa e ci si occupava di chimica c'erano tre gradi diciamo non necessariamente uno più alto dell'altro ma tre gradi diversi tre indirizzi diversi di applicazioni di quelle che erano le scienze chimiche la chimica pura dove imparavi praticamente a far controllo sui flussi controllo di caratterizzazione intendo la chimica industriale che era il processista cioè quello che deciso un processo te lo gestiva e poi c'era l'ingegnere chimico che è quello che il processo invece lo costruisce la figura professionale qua per fare un'analogia con quello che c'era una volta è appunto quella del chimico industriale l'analogo del chimico industriale cioè voi uscite qua come processisti siete degli esperti di processo il corso per potervi permettere di fare sta roba prevede nei due anni corsi che come vedete sono su raggruppamenti non so se siete pratici con gli SSD in Italia ma i raggruppamenti che vedete lì sono principalmente l'ingegnere 25 che sono gli impianti chimici chimio 01 e chimio 12 che sono chimica analitica e chimica ambientale poi c'è bio 19 che ovviamente fa parte del mondo delle microbiologie è l'innesto diciamo di quello che è biologico all'interno di quello che avete visto prima e poi esami di complemento che vanno dall'economia poca roba economia e diritto che servono per mettere a terra anche dal punto di vista applicativo nel contesto normativo nazionale e oltre a quello che imparate di qua gli esami quindi come vedete impianti chimici e biochimici che tra l'altro un esame a scelta è quello che vi dà fondamenti sulle operazioni unitarie dei pezzi che compongono la filiera poi vedete chimica analitica questa prevede una parte ovviamente frontale e una parte diciamo pratica nei laboratori non l'ho detto finora ma il corso si tiene attreviso ad eccezione ad eccezione di un periodo che vi facciamo fare qua in campus ed è il periodo dei laboratori che è strutturato proprio per darvi un'idea di come funziona un ambiente di campus scientifico applicato come è quello dove siete adesso per il resto il corso è completamente innestato sulla piattaforma di Treviso poi come vedete corsi chimica ambientale che riguardano applicato LCA e rischio ci sono dei corsi come vedete l'ingegno 25 processi depurativi direi industriali civili che è praticamente depurazione ed è un corso dove praticamente imparate a gestire in maniera a 360 gradi dell'impianto di depurazione di qualsiasi tipo industriale civile che è uno degli asset centrali che vi vengono chiesti nel momento in cui entraste a lavorare su sto mondo poi ci sono vi dicevo i bio 19 che sono i settori che coprono gli esami dove vi danno gli elementi di microbiologia di base e applicata economia vi ho già detto altri corsi sempre di impianti dove voi potete un po' giostrarvi le cose quindi il trattamento dei rifiuti, le bio raffinerie che sono le promesse degli anni a venire e infine anche la parte per la produzione di intermedi metabolici e anche biocarbulanti, biofigure e compagnie cantate dopodiché ci sono ancora due esami una meccanica dei fluidi e l'altra ovviamente riguarda le energie rinnovabili e poi ci sono l'asset insieme di crediti che sono quelli tipici tra la prova finale, tirocinio eccetera eccetera tenete presente una cosa che è una particolarità che abbiamo introdotto recentemente i quattro corsi con l'asterisco funzionano in questo modo qua di quei quattro voi ne dovete scegliere uno assolutamente tra i quattro e poi avete dodici crediti in più che poi voi vi gestite cioè potete sceglierli all'interno o degli stessi quattro di cui abbiamo appena detto oppure potete andarvi a pescare altri esami a scelta che qui non sono evidenziati oppure dall'ambito delle magistrali o di chimica o di scienze ambientali che avete qui quindi voi avete dodici crediti sostanzialmente liberi profili professionali dove si esce? si esce ovviamente lo capite bene qua il target centrale sono sicuramente dei multi servizi ma valgono anche gli studi di ingegneria valgono tutte le industrie che si occupano di sintesi su base bio io, Novamont vi dico una perché parliamo di bioplastiche durante questi discorsi qua e così via insomma ovviamente non sono escluse da questo tipo di applicazioni tutte quelle professionalità che riguardano poi gli enti di controllo qui ovviamente l'ipotesi è di avere finalmente e ve lo dice uno che fa anche il progettista un tavolo di conferenze servizi dove finalmente quelli che stanno alla parte controllo e quelli che stanno alla parte propositiva cioè i progettisti parlano stesso linguaggio io vorrei prima di andare in pensione vedere dei tavoli servizi in regione fatti così e vi assicuro che non è al momento almeno non è del tutto raggiunta sta cosa quindi voi andreste a colmare quel gap che manca qui vado via svelto vi sono alcuni esempi di come ma è roba che leggete sui volantini o in rete quindi non voglio farvi parlare del tempo i vari processi che sono connessi a tutto quello che vi ho detto fino adesso che vi ho detto sono quelli legati alla produzione ma anche quelli alla valorizzazione dei rifiuti che escono dalle linee produttive quindi immediatamente ovviamente anche la produzione di energie rinnovabili il ciclo dell'acqua e il ciclo dei rifiuti sono due poli centrali senza altro non sono gli unici perché come avete visto c'è anche il discorso di raffinerie ci sono gli aspetti ambientali e energetici ci sono tutta una serie di professionisti che ora l'industria chiede quindi anche quando abbiamo progettato il corso abbiamo ovviamente chiesto alle aziende tant'è vero che abbiamo un comitato di indirizzo dove dentro partecipano le aziende che sono i stakeholder principali di questa roba che ci chiedono loro di fare le modifiche per portare a avere le figure professionali che meglio si dedicano a quello che poi loro devono praticamente risolvere questi sono appunto alcuni esempi di figure professionali specifiche quindi c'è il rappresentante il responsabile per la gestione del ciclo dell'acqua la gestione del ciclo dei rifiuti eccetera sono andato già oltre i miei minuti quindi vado via veloce questa roba vi ripeto leggetevela perché sono già presenti nei nei vari del PRIAN cos'altro dirvi ah beh qualche notizia pratica voi sapete come funziona è una biennale secondo l'ordinamento di adesso quindi voi avete all'interno un tirocinio e un periodo per una tesi sperimentale nulla vieta che uniate le due cose e facciate un periodo unico questo può essere interno o esterno noi abbiamo ovviamente quelli che avete sotto sono alcuni dei marchi che hanno sostenuto e sostengono il corso di laurea poi avete tutta una lista di aziende che trovate sul sito Icafosche delle quali potete chiedere di fare un tirocinio o meglio ancora il consiglio mio lo dico da sempre di unire le due cose di docinio e internato di tesi e produrre una tesi di tutto rispetto in tematiche che sono legate a questa cosa qua va bene io avrei finito adesso Francesco che è uno dei docenti che è un corregio docenti di ambiente di biotecnologie vi farà un brevissimo esempio di cosa dovete aspettarvi nel momento in cui entriate di qua il tipo di lezione che potrebbe essere che potrebbe che magari questa piccola parte è diciamo all'interno del corso di laurea tanto perché vi facciate un'idea del livello un'ultima frase chiudo guardate che questo è un corso tecnico ve lo dico subito non è un corso dove si parla di filosofia della scienza o roba del genere come vi ho detto è a metà strada tra i corsi diciamo puri di chimica e l'ingegneria quindi da qua escono professionisti che sono in grado di fare i processisti davvero non è un corso sicuramente passate in termine semplice ci sono degli insegnamenti che richiedono un po' di impegno ve lo dico perché è giusto che lo sappiate questo non vi spaventate non è un'ingegneria non è un corso di ingegneria però è molto più vicino all'ambito diciamo di concretizzazione delle conoscenze rispetto a molte altre soluzioni d'accordo? ok Francesco sì volevo solo aggiungere una cosa molto pratica avete visto un po' di loghi di aziende del territorio che sono disponibili ovviamente ad accettarvi anche come tirocinanti perché voi farete poi un totale di crediti che ricadono appunto nel tirocinio ci sono però anche delle convenzioni con università e aziende straniere nel caso voi voleste la Svezia è andata forte da quando questo corso ha aperto perché molti molti studenti hanno deciso poi di fare un periodo lì sono tornati tutti contenti e quindi poi se avete cioè è chiaro che poi ogni docente cura il rapporto con l'azienda estera e quindi rivolgetevi al docente specifico si fa una convenzione sono procedure molto snelle e voi partite e vi fate anche la vostra esperienza questo è sicuramente un plus chiusa parentesi ho pochissimo tempo ovviamente adesso diciamo che una delle primissime slide che il professore vi ha fatto vedere parlavano della parte di fonti ed energie rinnovabili e bioprodotti e servizi sono i tre pilastri fondamentali su cui proprio questo corso è basato io mi occupo di alcuni esami nell'ambito dei servizi quindi vi faccio vedere di che tipo di servizi stiamo parlando di uno di quelli che poi andremo ad affrontare ed è essenzialmente il recupero della risorsa idrica e la sua valorizzazione quando parlo di risorsa idrica è importante considerare che stiamo parlando di acque di scarico che produciamo noi stessi con tutte le nostre attività quotidiane quindi acque prodotte nell'ambito urbano o negli ambiti vicini all'urbe quindi acque di scarico che poi non possono essere sversate così come sono prodotte da noi con le nostre azioni in ambiente ma devono essere in qualche modo recuperate e trattate ci sono i microorganismi che fanno questo il lavoro che vi si chiede è quello di interpretare le ovviamente reazioni biologiche perché parliamo ovviamente di un corso a metà appunto tra la parte microbiologica e la parte ingegneristica di progettazione e quindi questo vi dà un'idea insomma di una parte dei servizi che andremo ad affrontare di solito facciamo anche una visita in un vero e proprio impianto centralizzato la facciamo ogni anno proprio per farvi vedere diciamo dal vivo quello che succede diciamo quindi tralasciamo il discorso di ciclo naturale dell'acqua non è più così perché ci troviamo di fronte ad un ambiente urbano come vedete il ciclo urbano dell'acqua è abbastanza differente perché dall'operazione di captazione per la distribuzione in ambito urbano noi poi generiamo un rifiuto quindi è anche nostro dovere andare a recuperare tutta questa risorsa sotto forma di carbonio di azoto o di fosforo che è presente quindi prima del rilascio che vedete nella fase finale dobbiamo entrare noi come esperti nel trattamento delle acque di scarico quindi progettazione degli impianti che ripeto è solo uno dei servizi che verranno poi affrontati nel corso qui stiamo parlando appunto di servizi non di bioprodotti ci sono poi dei corsi più focalizzati proprio sulla produzione magari di sostanze utili anche a livello commerciale sempre parliamo di processi mediati da microrganismi perché noi dobbiamo andare a studiare proprio le cinetiche biologiche chi è il vero responsabile che c'è dietro questo diciamo successo applicativo questo è una foto di un tipico impianto di depurazione centralizzato vi ripeto ne vedremo uno poi dal vivo perché vi porto io insomma fuori treviso a vederlo le acque di scarico di solito sono soggette a trattamenti primari e secondari ripeto acque che sono che provengono da attività urbane quindi vengono proprio dalle vostre mura domestiche e di solito si fa i trattamenti sono misti perché in parte sono fisici di semplice separazione in parte sono biologici sicuramente la parte relativa al trattamento secondario tutte queste azioni che noi poi saremo dobbiamo essere poi in grado di gestire e di interpretare producono un sottoprodotto è indicato qui nella fase finale della slide questo fango attivo che si produce ecco quello è ciò che poi viene a essere generato da un processo di trattamento acque e noi abbiamo lo stesso obbligo di smaltirlo in modo opportuno quindi tralasciamo tutti i discorsi che si possono fare relativi all'utilizzo e al dimensionamento delle discariche che vedremo in parte in un altro corso in questo caso noi andiamo a valorizzare questa risorsa quindi non solo restituiamo acqua così come l'abbiamo prelevata dall'ambiente nei corpi idrici superficiali ma dobbiamo prenderci cura di quel sottoprodotto lì perché è un sottoprodotto che non può ripeto essere sversato in ambiente tal quale questa è una foto dall'alto che vedete di un tipico impianto centralizzato di trattamento che cosa si fa ovviamente gli obiettivi quali sono quello di eliminare le sostanze organiche che sono disciolte eliminare o catturare quantomeno azoto e fosforo che sono fonte poi di crescita algale e di utrofizzazione incontrollata nel caso in cui questi corpi idrici venissero sversati così come sono negli ambienti circostanti e andare poi a capire il destino di questi fanghi di depurazione diciamo per ora come vedete in blu in blu sono diciamo più o meno tutte applicazioni che hanno visto negli anni una crescita esponenziale dell'utilizzo dei fanghi specialmente la digestione anaerobica come vedete la quarta sulla destra è una tecnologia che noi spiegheremo anche in uno dei corsi è un insegnamento base e lì ovviamente andremo a recuperare tutto quello che è possibile recuperare da questo sottoprodotto in termini sicuramente di biometano e di fertilizzanti per quanto riguarda la parte in rosso ci saranno contenuti relativi a pirolisi e gasificazione qui entriamo però in tipologie di processi che non sono biologici quindi andiamo su processi di tipo termochimico quindi poi del resto faranno fede tutta un'altra branca di applicazioni questo è come vede il diciamo l'approccio ideale quindi si parte da una in azzurro c'è tutta la linea acqua è quello che vi avevo fatto vedere prima cosa succede poi ai fanghi che sono il sottoprodotto in verde vedete la parte relativa alla tecnica di digestione anaerobica quindi al recupero e alla valorizzazione di questo fango tramite recupero energetico sotto forma di biogas biogas se non lo sapete è una miscela appunto gassosa che nella migliore delle ipotesi è costituita al 60% di metano quindi vuol dire anche un elevato recupero energetico chi c'è dietro a questo ve l'ho detto prima stiamo parlando di microorganismi quindi noi andremo a studiare il processo sotto forma di reazioni biocinetiche quindi cosa fanno i microorganismi quali sono innanzitutto e come la loro crescita e la loro attività si caratterizza e quindi si descriveranno da un punto di vista matematico niente di difficile ve lo assicuro i processi relativi alla crescita dei microorganismi al loro consumo essendo questo un corso specifico un insegnamento basato sui servizi noi dobbiamo andare a quantificare l'abbattimento del carico inquinante se come succede in altri corsi siamo più centrati sulla produzione di un prodotto allora le stesse cinetiche verranno ad essere studiate in funzione di quel prodotto che dobbiamo ottenere quindi a partire da una materiale quanto prodotto alla fine riusciamo ad ottenere è un calcolo che voi poi sareste in grado di fare e di proporre e quindi il tempo l'ho terminato non andremo adesso nel dettaglio di questo però sappiate che poi ogni diciamo reazione di tipo biologico verrà studiata e modellizzata da un punto di vista matematico con questo chiudo perché penso di aver raggiunto il tempo limite qui solo un ultimissimo esempio vi ho parlato prima della digestione anaerobica e del recupero di biogas come vede questo è un tipico digestore anaerobico cosa succede lì ci sono tutta una serie di reazioni che poi andremo a studiare appunto dal punto di vista cinetico fino ad arrivare al biogas quali sono queste reazioni sono in realtà reazioni multiple si parte ovviamente da substrati organici quindi proteine grassi carboidrati quindi non un substrato organico ben definito come può essere per esempio i fanghi di depurazione tutta una serie di reazioni che andremo a vedere singole che portano non solo al metano come vedete in verde in basso ma anche a tutta una serie di intermedi definiti qui sia in arancione che in azzurro come vedete dalle frecce che ci consentono di capire le vere potenzialità di questa risorsa quindi si parla di fanghi come sottoprodotti da un impianto di depurazione ma non più come rifiuto ma come una nuova risorsa che può portare ovviamente a nuovi benefit chiudo qui ovviamente disponibilissimi da adesso fino alla vostra potenziale iscrizione a togliervi qualsiasi dubbio quindi scriveteci veniteci a bussare siamo qui per voi un secondo solo guarda una roba di chiusura a coronamento di quello che dice Francesco questa slide qua è presa in parte in parte sottolineo da un report più importante dell'US Department of Energy dove praticamente qui non ce l'ho ma farò vedere sono messe praticamente a confronto due situazioni quella con le materie prime da una parte i processi e le materie seconda dall'altra fatte da una parte su base fossile e nell'altra slide partendo da matrici di scarto e quindi rinnovabili e quello che è sorprendente è che quello che c'è a destra che sono praticamente tutte molecole considerate sono praticamente le 100 molecole considerate strategiche per i prossimi 50 anni dal Dipartimento dell'Energia per l'America sono tutte tutte sintetizzabili attraverso processi basati su matrici come i fanghi di depurazione come quelli dell'agri-food e roba del genere sono tutti i processi che praticamente trovate all'interno dei corsi che vi dicevamo prima capite quindi l'importanza anche strategica di lavorare su corsi di studio come questo ciao a tutti e grazie grazie a tutti grazie a tutti